Anche lui è membro della community di WordPress dal 2010, quindi da tantissimo tempo, più o meno. Cercherò di essere breve, lo sto già mettendo in difficoltà perché sono interista, questa cosa mi ha fatto capire che gli dà un tuo fastidio, quindi cercherò di limitare i danni. Oggi ci parlerà di l'importanza di documentare il proprio lavoro. Fate un applauso a Enrico Sorcinelli. Andiamo velocemente, cercherò di convincere anche più scettici oggi di come sia importante documentare nello sviluppo di progetti software. Esistono due tipi di documentazione, essenzialmente per sviluppatori e per utenti finali, cioè quelli che useranno il software. Sono due documentazioni completamente differenti che richiedono anche competenze differenti. Quindi anche chi farà documentazione per sviluppatori, per utenti finali, probabilmente non saranno le stesse persone. La documentazione per sviluppatori. La documentazione per un sviluppatore è una parola che incute timore. Se non timore comunque provoca un senso di nausea, una sensazione di disagio. Gli sviluppatori hanno un grosso difetto a volte, riscrivono codice e magari credono anche di farlo meglio di altri. Però, come tutti gli esseri umani, hanno dei piccoli momenti di lucidità nei quali realizzano che non vogliono farsi sempre del male. Allora vanno a cercare su Google per vedere se trovano un qualcosa, o su GitHub, un qualcosa che possa fare al suo caso. Supponiamo ad esempio Mario, un fantomatico sviluppatore, che stia proprio attraversando questo momento di lucidità. Va su GitHub, vede un nostro progetto, dice ah bello, mi piace, c'è anche un esempio live, decide di integrarlo. Si accorge però, ritornando su GitHub, che non abbiamo scritto documentazione. E uno sviluppatore non si abbatte, va a vedere nel codice, ma anche lì vede che non c'è poco. Quel punto cosa fa? Dice, pensa che si deve fare reverse engineering, se lo riscrive da zero. La frittata è fatta. Noi abbiamo perso un nuovo utente, un contributor probabile, probabilmente abbiamo acquisito un nuovo competitor, perché se poi Mario va a mettere questo codice su GitHub, sarà un nostro competitor. E quindi di fatto per Mario il nostro codice non è mai esistito. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare nel nostro codice, nel nostro progetto, di creare documentazione in tutta una serie di modalità. La cosa più semplice è la documentazione in line, tramite commenti o docblock, che sono opportuni commenti fatti in un certo modo, fino a scrivere API reference, esportiamo delle funzioni, allegando documenti sull'architettura, il changelog, il readme, nel caso di plugin fondamentale, fino a dare esempi di codice, una guida per contributors, articoli e chi più ne metta. Certo che costa fare il codice. Allora vi voglio dare una scorciatoia, che ovviamente non è questa, perché non basta scrivere codice perfetto, perché si basa su due presupposti essenzialmente sbagliati, che effettivamente sia un bel codice, e che l'utente finale, che poi lo andrà a utilizzare, abbia le stesse nostre skill e riesca a comprendere quello che abbiamo fatto. Quello che possiamo fare è adottare i coding standard. Coding standard nella scrittura del codice. Che sono una serie di linee guida, di direttive, di aspettative, che ci guidano nella scrittura di un codice. Questi coding standard vanno dallo stile del codice, dalle best practice, dal naming dei file, dall'organizzazione anche dei file, naming delle variabili, classi, ovviamente nella documentazione online che deve essere scritta in un certo modo. Qui ho messo un link su quelli che sono i coding standard relativamente al mondo WordPress. Brevemente un esempio, non so se vedete, per farcelo stare, di un codice preso dalla codebase WordPress, una funzione piazzata lì senza coding standard. Già la stessa formattazione, con gli spazi, indentature, eccetera, lo rende molto più leggibile. Ovviamente se a questo ci aggiungiamo codice, docblock, eccetera, vedete come anche in assenza di una documentazione più completa, uno sviluppatore riesca, guardando questo codice, a capire e usare questa funzione all'interno dei propri progetti. Lo stesso dicasi per il JavaScript, esistono sempre. Abbiamo visto velocemente cosa sono i docblock. I docblock sono dei commenti scritti, non necessariamente in multilinea, scritti in un opportuno modo, che hanno all'interno anche dei tag, che sono identificati dal carattere chioccia, che ci danno ulteriori informazioni sulla funzione, sul codice che stiamo scrivendo. Quindi ci dicono la tipologia dei parametri, piuttosto che i parametri di ingresso, i parametri di uscita, e hanno anche una loro descrizione. Questo vale sia per la funzione, per i filtri, nel caso di WordPress, Uc e quant'altro. Questi docblock possono essere usati tramite software di generazione automatica di documentazione per generare una documentazione, quella che viene detta l'API reference, del nostro codice che può essere direttamente pubblicata sul nostro sito. E anche nel caso di PHP Documentor, anche ricercabile. I più avanzati IDE hanno un supporto di docblock e li utilizzano per aiutarci nella scrittura del codice. Quindi via via che scriviamo, ci danno indicazioni sugli parametri di ingresso, su una breve descrizione, quindi ci supportano. Ovviamente, il docblock, facendo parte della documentazione dei codi standard, i code sniffer, che sono degli analizzatori statici di codice, ci possono dare una mano correggendo quelle che sono le errori sintatici dei docblock. Quindi documentare è importante. Come avete visto, migliora l'allegibilità, la monotenibilità, e ci fa risparmere tempo, che è denaro. Immaginiamo di dover ritornare sul nostro codice, fatto anche magari solo un mese fa, non documentato, magari facciamo fatica, non solo noi, ma anche i nostri colleghi di un team. Averlo documentato aiuta sicuramente l'integrazione, la modifica, e non solo, anche può aiutare il suo utilizzo anche da parte di terzi nel momento in cui noi questo progetto lo vogliamo condividere. In generale aumenta la qualità del codice. Qui sotto c'è un link a riferimento a quelli che sono i codi standard del coding in line. Brevemente il changelog, ma qui facciamo veloce, io lo ritengo molto importante, mantenere sempre aggiornato in un file opportunamente formattato con degli standard opportuni, perché ci dà subito allo sviluppatore una visione di quelle che sono le modifiche salienti dell'ultima release del codice. Cosa che potrebbe fare guardando il codice, ma qui ovviamente è una cosa molto più veloce. Passiamo alla documentazione per utente finale, che è quella più corposa, ovviamente, a volte anche la più trascurata per progetti che magari non devono essere esportati per progetti interni. Come abbiamo detto, richiede competenze diverse e probabilmente non viene fatta dallo stesso developer che ha sviluppato il progetto. Come vedete ci sono un sacco di punti che abbracciano la documentazione per l'utente finale. Da un semplice elenco dei requisiti a un setup configurazione, via via un glossario, al menu di aiuto di WordPress, nel caso noi facciamo i contestuali. In caso fosse un plugin o un tema WordPress, quindi è possibile aggiungerli. Fino via a scrivere una guida anche risoluzione di problemi, screencast, quindi video, tutorial, articoli e quant'altro. La documentazione per utente finale è un'arte, poiché richiede non solo competenze scientifiche, ma chi scrive documentazione per utente finale deve avere anche competenze, diciamo, umanistiche. perché io non sono sviluppatore, faccio anche documentazione per utente finale, ma cerco di farla, cercando il più possibile di... Brevemente, un piccolo elenco di punti che secondo me sono importanti da tenere in considerazione nella scrittura di una documentazione per utente finale. In genere la mettiamo su web, comunque su media online. La prima cosa è che deve essere comunque accessibile, quindi deve rispettare le stesse, diciamo, accortezze di accessibilità di un sito web. È importante, secondo me, essere anche correnti nella formatazione, quindi dare subito all'utente inizialmente un'indicazione su quelle che saranno le convention di formatazione, quindi il corsivo lo utilizzerò per una serie di informazioni, il grassetto, piuttosto che evidenziare con certe icone determinate informazioni, eccetera. Ovviamente, se nel caso volessimo introdurre anche esempi di codice, evidenziare bene il codice, che raramente per l'utente finale si mette il codice, comunque evidenziarlo bene, dare un link ai forum di supporto, se lo abbiamo, perché è una preziosissima fonte di informazioni, di risoluzione dei problemi, testarla. Anche se non esistono, diciamo, strumenti di unit test per la documentazione di utente finale, la dobbiamo testare, a meno che ChatGPT non venga fuori, che con uno strumento che ce la faccia, ce la crei in automatico dal progetto. e al di là dei correttori sintattici, testiamola, correggiamola, rileggiamola, facciamoci aiutare anche da amici, colleghi, oppure se abbiamo un progetto anche commerciale, individuiamo una fetta di beta tester a cui dare questa documentazione. La dobbiamo mantenere aggiornata. Il markdown è quello, il formato che io utilizzo personalmente per formattare, per scrivere documentazione, perché è un formato molto semplice, che ha pochi tag ed è molto portabile. Tra l'altro è il pub di WordPress, molti contenuti utilizzano proprio il markdown per contenere la documentazione. Concludo accennando a quello che ho scritto, VARC, che è un acronimo, che sta per visual, oral, read, write, kinesthetic, che praticamente è una teoria molto interessante, a mio avviso, che sugli stili di apprendimento. In Sodoni ci dice che le persone apprendono in quattro modalità, vedendo, ascoltando, leggendo e facendo. Non tutti abbiamo un'unica modalità, quindi siamo multimodali, quindi il consiglio è di inserire nella vostra documentazione di utente finale, tutta una serie di elementi che vanno dai video, dai podcast, piuttosto da esercizi e ovviamente la scrittura, per abbracciare un numero maggiore di utenti nella nostra documentazione. Io ho concluso, quindi la documentazione, come avete capito, è come il codice, Cuba almeno un 30% assieme allo sviluppo analisi e al test, non diamo mai per scontato che sia conclusa una volta scritta, perché come il codice va sempre ottimizzato, curato, eccetera, e soprattutto all'aggiornamento del codice aggiorniamo la documentazione anche per l'utente finale, perché una documentazione obsoleta dà l'impressione di un codice obsoleto. Io ho finito, grazie Enrico, domande non abbiamo molto tempo, poi siamo già creatissimi. Nel frattempo Mario ha visto un altro mio progetto, documentato, e ha fatto una pull request e così è diventato un nuovo contributo.